Dovrà restare lontano dalla panchina fino al 25 ottobre. Alassio Guidotti, l'allenatore del Zubiano, che la scorsa domenica è entrato in campo e ha steso l'attaccante avversario lanciato a rete in contropiede, alla fine se la cava così con un mese e mezzo di squalifica che vale sei turni del torneo, il che gli consentirà dunque ritornare in campo da domenica 27 ottobre. Questa la motivazione del giudice sportivo. A gioco e svolgimento entrava indebitamente in campo con il chiaro intento di interferire con l'azione di un calciatore avversario e nel riuscirvi si rendeva colpevole di condotta gravemente antisportiva. Alla società, il giudice sportivo della Lega Nazionale e Dilettanti della Toscana invece ha combinato una multa di 250 euro per responsabilità oggettiva. Il giudice si è poi riservato di decidere sul ricorso presentato dal Pontassieve sul cui campo si è svolta la partita e che adesso chiede la vittoria a tavolino o quantomeno la ripetizione dell'incontro. Il caso aveva subito sollevato un polverone mediatico diventando virale. Il marino mercato Subiano, sin da subito pur astigmatizzando nel comportamento, aveva smentito l'ipotesi di un possibile esonero del tecnico e condannato la cogna mediatica che si era scatenata sui social.